Conto alla rovescia per l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico ma non per gli studenti a partire da mercoledì 1 settembre, come previsto dall'ultimo DPCM, in funzione di una riapertura in sicurezza delle scuole. Ai dirigenti scolastici o ai loro delegati spetterà l'onere di verificare la validità della certificazione verde dei docenti, che in alcuni casi rimangono resti alla vaccinazione, se, come dichiarato anche nei giorni scorsi da Maurizio Brucchi, referente regionale per la campagna vaccinale, resta in Abruzzo una sacca di professori non ancora vaccinati a pochi giorni dal ritorno in classe. A esprimere perplessità sono soprattutto i dirigenti scolastici, chiamati a vestire i panni dei controllori e a garantire il diritto all'istruzione, quello alla salute, rispettando al tempo stesso la privacy dei dati sensibili del proprio personale, in attesa che il Governo chiarisca i dubbi sollevati, come dichiara Alessandra Di Pietro, dirigente scolastica dell'Ipsar De Cecco di Pescara. Le modalità di controllo del Green Pass si stanno ancora definendo e sicuramente noi in una prima fase come dirigenti scolastici avevamo fatto presente le enormi difficoltà di un controllo giornaliero da parte nostra del Green Pass. Quello che si sta definendo adesso è una soluzione che riteniamo positiva, e cioè una piattaforma digitale gestita dal personale di segreteria che accede direttamente all'anagrafe dell'ASL. Il problema però è che questa piattaforma non è stata ancora introdotta e quindi noi, per un tempo indeterminato, dovremo comunque prevedere all'interno delle nostre scuole, a partire dal primo di settembre, un controllo dei Green Pass su tutto il personale scolastico. È un impegno particolarmente oneroso, oltre che di enorme responsabilità, che in questa fase ci pesa moltissimo. Per questo sarebbe opportuno che ci fossero garantite anche delle risorse umane ulteriori. Il Green Pass è concepito come uno strumento a tutela della salute. Noi siamo un servizio pubblico e quindi il nostro primo dovere è tutelare la salute collettiva. La salute è un diritto costituzionalmente garantito, fondamentale per l'individuo ed è un interesse per la collettività. In questo senso noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le indicazioni normative. Aspettiamo la conversione in legge del decreto, che sicuramente dovrà chiarire alcuni punti che sono rimasti un po' più vaghi, dopodiché ci atterremo. Il discorso dei Novats è un discorso abbastanza delicato. Io credo che un contratto sociale impone delle responsabilità e degli obblighi a tutti i soggetti di una collettività. Così come non posso guidare senza patente, non posso insegnare senza Green Pass. Credo che i Novats debbano quindi anche assumersi con coerenza la responsabilità delle loro decisioni. Sicuramente non mi sembra opportuno che debbano gravare con le loro scelte su un sistema sanitario nazionale già appesantito dall'emergenza sanitaria.